Allora tutti e due, vai in trazione tutti e due Andrea? Fidati, ho già provato, fra mali poi sì, però vabbè, ok, vai in estensione tutti e due, ok stop, inizia a lavorare con una e l'altra lascia lì in iso, uno, due, tre, giusto per scaldare un po' i bicipiti, tre, quattro, cinque, sinistra, uno, due, tre, quattro, cinque, cinque assieme, cinque, buono, vai Gian. La cosa bella è che Mauro, pure se ti rubo una ripetizione, tu subisci un po' di nulla, zitto, il risultato finale sarà lo stesso, uno senza quello, questo l'ho capito quando mi ha rubato due ripetizioni lì, Io ho detto, no, tu non devi fare, perché poi si incattivisce, quindi te e poi è lì che ti fotte, dillo alla fine, quando è finito tutto, no, ma io non ho detto niente, no, alla fine quando non ha più strumenti con cui torturarti, cassa morte, mi ha rubato 20 ripetizioni, faccio il conto, al fine, ok, stai in tutte e due, che pettone che ha Gianz, che pettazzo, Gianz qua o sono protesi o sintol, devi ammettere i tuoi peccati, pettone che ha, cinque, ok, libera qua e va sui bicipi di solo, tre, quattro, cinque, quattro, vedo anche altri atleti molto esperti, che la prima volta fanno allenamento con lui, sono tutti un po' in soggezione con lui, poi man mano che vai avanti, capisci che fa la battuta, perché tante volte lui fa delle battute che ti stroncano, se ti taglia proprio le gambe, poi invece capisci che è così. Bella, già pronta, ok, buono, vai, uno, due, tre, sei, ok, stendi tutta, strecciare un po' sto bicipiti, i gomiti, la vuoi, un po' male i gomiti? Bisogno appoggiarli, sì, ok, preoccupare, poi guarda, qua io riesco. Ce l'hai? Sì, 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 ok, stendi un cazzo, è morto? Morto, sono finti di plastica. Dai, più dietro, sei, quattro, cinque, sei, buono, vai Gian, dai gomiti un cazzo Gianz, eh, diciamo, più la spalla. Cazzo, io appoggiare i gomiti così è impossibile, si metti per due aghi nei gomiti. Sei, sei, 12, sette, nove, questo è il documentario di un atleta che sta finendo, ragazzi, eh. Nove, non è che abbiamo ancora tante cartucce in futuro, parlo di Gian, sicuramente. Facciamo uno scambio culturale, tu vieni su una settimana in ritiro da me, io scendo una settimana. Cioè io sono là, tu sei qua? No. Ah, ok, ti raggiungo, siamo là. Siamo in cinque a Roma. No, cazzo, almeno facciamo un po' di, degli Erasmus di bodybuilding. Ok, facciamo serie normale? E la variante non è male, visto che abbiamo due macchine qua, sfruttiamole. Adesso vediamo come va il carico. E cazzo di gomiti. E quello qua, Gian, questo era? Ah, hai ragione. Sì, vai. Forza. Com'è? Sì, no, purtroppo solo i gomiti mi rompono un po' i coglioni. Quando c'è l'appoggio. Ti fa niente malo se lo faccio singolo, così riesco a portarlo un po' più giù. Scusa, mi picchi altri anni e altri cinti. Singolo secondo me puoi aumentare di più. Sì, 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 sì. Vai Gian, forza. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ci sta, ci sta. Domanda, come si chiamano queste? A loro stavo dicendo, bastardo, tu lo sai sulle tue. Allora, no. Bippa. Metti la risposta. Vai Gian, forza. Andiamo. Una. Forza. Due. Tre. Quattro. Otto. Cinque. Ma tre. Quattro. Vai Gian, forza. 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 Una ancora. Poi stiamo dicendolo questo un attimo, Gian. Adesso no, Andrea. Io l'avevo acceso, ma... No. No. Cosa cambia? Niente. No, non cambia nulla. Non te la rinfresca niente, Andrea. Il solito te che si rompi i coglioni. Ok. Una serie, abbiamo finito. Stigato subito, via. Tranciato proprio le gambe. No. Cazzo l'accendi. Come Franco Baresi combatti Stuta, chi se lo ricorda. Così, forbice. Ma io ho fatto così, con tutta la buona volontà. No, Gian, niente cazzo. Esatto, basta. Fermo lì. Ho già aumentato. Non chiedo perché, proprio... No, no, niente. Ho già aumentato. No, Gian. Che sensazione ti dà? Nessuna. Dai, basta. Perfetto. Dai. Benissimo. Questo singolo lo senti di più, eh? Tantissimo. Perché ti pieghi un po', lo senti un botto. Bello. Quanto pesavi tu in gara, Mauro? 109-800, l'ultima gara. Ce lo dici. Per fare un parallelismo, per farvi capire, perché tante volte si parla di pesi e non si capisce un cazzo, no? perché dico... 140, 150, 130. Sean Roden ha vinto l'Olimpia nel 2018 108 e mezzo. Flex Wheeler è arrivato secondo all'Olimpia a 99. Chiaro. Forme stratosferiche. quando si parla di un atleta in gara 120, 115, 110. Se anche la genetica, vuol dire che stiamo parlando di un mostro, Coleman pesava 124, 125 ed era mostruosamente grosso. Finito. Quanto sarà pesato? 113? 115? Forse. Quindi quando sentite Coleman 125, 126, stiamo parlando di una roba che non riesco neanche a... È là, è là. Non riesco neanche a spiegarvela. Infatti stavo anche sbagliando macchina. Vai. Forza. 5. 6. Forza bene. 7. 8. Vai. 9. 10. Ancora due. Ancora una. Ok. Mauro, abbassa un po' il peso, che dici? No, l'ultima. Poi ci spostiamo giù. Adesso accendi con il Zantone e abbassi il peso. Combo perfetta, via. Evo già, dai. Metta. Buona. Ah ecco adesso ho visto dove sei. Basso. 2. Forza. 3. Ok fermo un attimo, adesso staccia un po' più sopra. Vieni verso i bicipiti. Ancora, ancora, ancora. Vieni verso il divano. Ancora, ancora. Eccolo, ecco. Buono. Ora. 1. 4. Forza. Una ancora. Chiudilo. Basta. Passa. Anche questo mi piace. Questo è il primo esercizio. Passa. Questo lo faceva sempre Paul Dillett. Sempre. Alternato o consecutivo? Alternato. Praticamente invece di andare in supinazione convergi. Bravo. Però dedicati bene al braccio singolo. Non buttarlo giù. Cioè finisci uno e poi pensa all'altro. Ora. Quando arriva il cedimento ne fai una per la brada e una per Quazila. Musila come si chiama. Nexila. Forza. Vai Gian. Io prenderei proprio quelle di Andrea. Provo? Sì. Beh. Diciamo che come movimento al velo di avambracci lo tiri facilmente. Bravissimo. Eh. Non controllo tanto. Cianza pura strutturona grossa. Sei. Otto. Dieci. Ok. Aspetta. Hai fatto cinque ripetizioni per braccio eh. Dieci. Dieci in totale hai fatto. Vuoi che scalo e parto? Almeno. Almeno dieci ripetizioni in totale. Dove vai verso di là? Perché ti vai in quella zona là? Sempre qua. Piglia un po' di meno. Quella da sopra. Sì. Se vai in quella zona là. Comfort zone. Sei manubile da Barbie. Uno. Dieci colpi. Due. Tre. Quattro. Cinque. Vedi? Ok. Fermo un attimo. Fermo un attimo. Stai facendo una frequenza veloce per dire finiamoci e togliamo dai palla all'allenamento. No. Adesso fai le cinque. Uno e pensa al destro. Poi due o viceversa. Uno. Stop. Vai destro adesso. Due. Giù. Forza. Sinistro. Uno. Giù. Vai. Destro. Buono. Altri due così. Sinistro e penso al sinistro. Poi vado sul destro. Ok. Buono. Buono. Il cervello senti che si scuote ma... Ma no vai. Ho visto che andavo di là a cercare. Non so che cazzo erano le bacchette. Quelle per fare per i sushi. Due. Tre. Sei. Forza. Forza. Otto. Forza. Nove. Scusa. Scusa. Nove adesso. Recupero un attimo. Sinistra e destra è finito. Una ancora. Buono. Bravissimo. Sei partito perfetto. Sei erano proprio buone, 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 buone. Ha concluso una merda. Io avevo iniziato una merda. Quindi... Però picchia sui bicipiti. Nella vita non li facevo questi. Sì. Qua tu lavori il bracciale che è quello che quando fai soprattutto il doppio di schiena ti dà la separazione tra il bicipite e il tricipite. Che nel mio caso quando ho questi tricipiti enormi perlomeno devi cercare di colpire sulla separazione. Sui tagli ecco. Quindi è proprio questo qua. Bravo. Questa parte qua. Questa pallina qua. Qua al centro. Per il tricipite c'è un giorno a parte? Li faccio insieme alle spalle. Penso che sui tricipiti ho provato a far tutto. Multifrequenza settimanale, monofrequenza, monofrequenza pesante. Ho provato una volta, che l'avevo detto a lui, a fare un giorno pesante e tutti i giorni un piccolo richiamo. Sì. Niente. No. A me proprio mancano le fibre sui tricipiti. Non sono senza tricipiti. Ok? Però rispetto al bicipite che invece è un punto forte, è una mia grossa carenza. Soprattutto la parte esterna, che è quella che dà rotondità. Soprattutto quando fai la spread, ad esempio, o quando fai la seta frontale. È giusto aver provato tutti i sistemi, perché non devi arrenderti. Comunque fin quando c'è la possibilità di provare a cacciarli fuori questi punti deboli. Però poi ti rendi conto che veramente c'è una mancanza. Qualsiasi approccio, Janz. Sì. Tecniche di intensità, bilancieri. Io facevo la French press, col bilanciere sagomato, con tre pizza aventi parlato. La facevo più quella completa, spacca gomiti. Dietro la testa, boom. Poi ho fatto lo spacca testa classico, proprio quello fermo. Però usavo pesone anche lì. La torretta della Life Fitness, quella diretta, quindi questa. Quella che è impossibile. Facendolo come Jay Cutler, con la testa vicino al cavo. La Dynamite Press. Tutto. Fa ridere come spesso criticano, però non mettono in conto che non solo c'hai Mauro a fianco, ti alleni da tanti anni. È ovvio che hai già provato di tutto, non è che aspetti la critica per dire… No, ma è fantastico. Andre, ti mancano un po' i tricipiti. Ah, ma veramente. Grazie. Porca troia. Sono vent'anni, faccio un po' di building, ma oggi ho scoperto che mi mancano i tricipiti. Grazie. Comincerò a allenarli. Che poi, se tu vedi, anche tutti i grossi grossi a fare l'alternato, fanno un movimento molto completo. Lo usano poco, eh. Però tutti fanno questo movimento completo. Lo portano qua. Che se tu parli con il 90% delle persone, non alzare il gomito perché è sbagliato. Non è vero, perché la flessione dell'avambraccio sul braccio, tu la puoi accompagnare se fai anche un leggero movimento dove sollevi il gomito. Sarebbe da fare quanti tutorial sugli esercizi esistono. Un miliardo. Però nonostante quello, vabbè, c'è chi ha... Un bel. Un bel. Un bel. No, ma Gian. Lascio così. Destroi i vostri biceps. Voi ridurre ancora, no? No, no. Quello che dici io faccio. No. Ma avremo a risalare che è domani. Forza. Dai, uno. Dai. Sposta il peso sulle gambe del braccio che lavora. Ok. Sul sinistro adesso. E poi cambia. dai attenzione con tutto il corpo al lato che lavora sei sì forza è l'ultima sette dai sì che le senti due aghi nei bicipiti otto è qua che non devi mollare che non senti quasi neanche le mani nove perché sono qui che crescono i bicipiti ultima sì grande Gian that's it come in Unitoons non stai facendo questo vero? solo a finale ma no niente tale no no aspetta ti conosco come le mie tasche porco cane aspetta alzi ti impiezi solo a finale isometrico porco giuda provo a 3 portarei solo a 4 no basta sta fermo ok fermo 10 9 3 giù di nuovo solo per 3 volte richiudo 10 4 3 2 1 estendo tutto richiudo l'ultima da una bella supinazione con traie non bele fare truffatore 1 2 3 4 5 10 stop buono vai Gian una serie sola basta non finire ok porto un po' in leva le braccia ok meno 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 ok adesso tienila in leva vai su chiudi e contrai ma forte però stop 10 9 8 7 6 bravo 5 4 3 2 1 liberatorio stretch 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 giro manubri ruotali 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 ok quando sei pronto ripartiamo e andiamo a chiudeli come se volessi rompere i bicipiti se li rompi 10 9 8 extra ruotalo chiudo stop 9 6 5 dai 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 4 3 2 1 accompagno giù stretch e poi è finito buono ci si deve domandarsi perché Jan si fa i bicipiti sui confini pettorali non lo sapremo mai ma è una cosa bellissima da vedere parla Jan dai Mauro grazie grazie di tutto grazie veramente per questa occasione questa opportunità per me è un onore un piacere avervi qui e questi giorni diciamo resteranno segnati per sempre perché per me è stato un piacere vi ringrazio spero di avervi trasmesso di insieme avervi trasmesso un qualcosa di positivo perché noi solo questo vogliamo trasmettervi la nostra passione anche se per tanti posso sembrare un personaggio lontano dal mondo del bodybuilding ve lo dico che questa è la mia passione quindi grazie non sei lontano forse tu lo pensi troppo e questo te crea un fastidio che non è così non sei così lontano ho capito la percezione della gestione muscolare che hai quando spingi non sei assolutamente lontano a questo mondo già solo la passione che hai per aver allestito un posto del genere dimostra che sei un bodybuilding addicted io oggi ero curioso ma anche Mauro ne parlavamo di vedere come ti allenavi quello che ha detto lui non tanto quanto sollevi perché il quanto sollevi dipenderà anche per quanto tempo continui a allenarti riprenderai la forma perché è tanto che sei fermo la gestione dei pesi si vede che sei uno che ha mosso pesi per tanto tempo quindi il piacere di essere qua è tutto nostro non sarà l'ultima volta ti aspetto questa volta io e lui ti aspettiamo al nord non ti faccio aspettare però ti aspettiamo su e poi verrò anch'io trovarti ancora e grazie a te per l'ospitalità assolutamente grazie 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 ragazzoli iscriviti aspetta iscriviti al canale mi raccomando andate a seguire Mauro e Andrea su Instagram mosmi in scola grazie grazie grazie